Uomini e donne, è amore tra due amatissimi ex corteggiatori, a distanti. Scoppia l'amore tra due recenti ex corteggiatori del trono classico, scopriamo tutti i dettagli. Il trono classico di Uomini e Donne non smette mai di sorprendere tutti i suoi fedeli telespettatori con nuove e sorprendenti indiscrezioni. Protagonisti di questo articolo sono due vecchi volti conosciuti nello studio Mediaset di Maria De Filippi. Entrambi hanno partecipato nel programma ricoprendo i rispettivi ruoli di corteggiatore e corteggiatrice. Di chi si tratta? Scopriamolo subito leggendo i dettagli che seguono. Uomini e donne News, due ex corteggiatori innamorati. Da diversi giorni si vocifera in merito alla nascita di una nuova giovane coppia, che condividono in comune un percorso nello studio Mediaset di Uomini e Donne. Parliamo di un ex corteggiatore di Valentina Dallari e di un ex corteggiatrice di Riccardo Gismundi. Chi sono? Si tratta di Andrea Melchiorre e Martina Lucchena. Come ben sappiamo, il ragazzo fu la scelta di Valentina al tempo del trono di quest'ultima e, inoltre, partecipò nell'ultima edizione di Temptation Island in veste di tentatore. L'ultima esperienza televisiva di Melchiorre è stata preceduta da una frequentazione assieme all'ex corteggiatrice di Lucca Onestini, Giulia Latini. Oggi, però, pare che il ragazzo sia riuscito nuovamente ad aprire il suo cuore ad una nuova donna. Gossip Uedì, nuova neocoppia? Gli indizi sui social. A far discutere della notizia sono alcuni indizi presenti sui social network, più precisamente sui rispettivi profili Instagram dei due diretti interessati. Sappiamo che entrambi si trovano a Milano e alcuni Instagram Stories rivelano una palese intimità tra la coppia nel corso di una cena in cui sono state presenti anche altre persone. Diversi utenti, infatti, presenti al ristorante il giorno della cena in comune tra Martina e Andrea, hanno rivelato che entrambi si sono scambiati varie effusioni d'amore in pubblico, abbracci e baci. A questo punto sono stati molti coloro i quali hanno giudicato i seguenti gesti come una mossa pubblicitaria da parte di entrambi i quali, secondo le opinioni pubbliche, avrebbero azzardato tale piano per riemergere sul web. Voi, invece, cosa ne pensate a riguardo? Credete nel loro amore? Noi non possiamo che dedicare i nostri migliori auguri alla coppia qualora decidesse di confermare pubblicamente il fidanzamento. Per saperne di più continuate a seguirci cliccando sul nome dell'autore, che ha scritto questa news, che trovate appena sopra il titolo, e, successivamente, sul tasto seguì. Grazie per la visione!